Abbiamo ricevuto un comunicato da parte dell'amministratore del Marsala Garbi che ci parla di un suo eventuale addio alla città di Marsala, 72 ore di pausa di riflessione, in questo comunicato parla dei rapporti con la politica marsalese, dei suoi progetti che andavano oltre il calcio e che avrebbero portato anche un incremento del turismo, dice, di circa il 5%. Si è sentito trattato male non dalla totalità delle persone, da una minoranza che però adesso gli stanno, questa situazione lo sta inducendo a lasciare Marsala quando all'inizio del suo avvento qui nella città di Marsala aveva trovato terreno più fertile, problemi, dice, per quanto riguarda il passaggio delle quote azionarie del pacchetto di minoranza, descrive anche i rapporti con l'attuale amministrazione e comunque una situazione debitoria, dice, molto pesante più di quanto pensava e che comunque lo stesso Garbi afferma nel comunicato che ha sborsato per adesso una cifra pari a 140 mila euro. Voleva tempo fino a maggio, adesso non sa se continuare oppure lasciare Marsala, ce lo farà sapere nelle prossime ore. Grazie per la visione!